Tornano ad aumentare levemente i contagi. Nel comune di Torre del Greco, secondo il bollettino di ieri sera, nessuna nuova guarigione è stata registrata. Si certificano invece 10 nuovi positivi. Continua così a mutare il bilancio dei contagiati, con 94 attualmente positivi, di cui 17 ospedalizzati. Nel comune di Torre Annunziata, invece, registrati due nuovi casi di contagio da Covid-19, a fronte di 68 tamponi processati, con l'indice di positività che si attesta al 2,94%. Al contempo si registrano anche due guarigioni. Sono 25 i cittadini attualmente positivi. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS